E' importante che ci sia l'autorizzazione definitiva per cercare che anche da parte dell'amministrazione comunale ci sia un'attenzione particolare a questo problema perché finora c'è stato un atteggiamento un po' ambiguo inizialmente, contrario dopo, ma questa contrarietà manifestata a parole si deve tradurre in atti concreti atti concreti che significa interloquire rispetto alla regione, riportare l'opposizione che c'è all'interno di questo territorio e fare tutti gli atti possibili anche dal punto di vista giudiziario per contrastare questo impianto Allora per fare questo c'è la necessità che i cittadini non si disperdano, continuino a fare gruppo e a fare massa di pressione se necessario ritornare anche il consiglio comunale a riportare gli impegni che gli amministratori si sono presi e devono continuare a portare avanti Grazie a tutti e alla prossima!